È importante che lo sviluppo e soprattutto la crescita culturale, civile all'interno delle società vada di pari passo con quello che è lo sviluppo occupazionale delle donne e noi abbiamo visto come la pandemia abbia penalizzato le donne che sono state quelle a pagare soprattutto il prezzo più caro. Allora oggi che cosa si può dire? Si può dire che c'è una grande volontà da parte dell'universo femminile di fare squadra attraverso quelle che sono le associazioni, le rappresentanze datoriali delle imprese e le istituzioni. È un modo, è un sistema di rete che sicuramente io mi auguro ci porti a realizzare quella democrazia paritaria che è necessaria in ogni società.